Ciao bambine, ciao bambini, eccoci di nuovo qui. Oggi impareremo a scrivere e riconoscere il suono duro della consonante G. Anche la consonante G è amica delle vocali. A, E, I, O, U. Come la consonante C, la G ha un suono duro e un suono dolce. Duro come la pietra e dolce come una caramella. Nel suono duro della G, noi leggeremo con le vocali A, O, U, GA, GO, GU. Mentre nel suono dolce, la G, insieme alla E e la I, la leggeremo G, G. Vediamo quindi il suono duro della G, insieme alle vocali. La G con la A diventa GA, GA di gallo. La G con la O diventa GO, GO di gomito. La G con la U diventa GU, GU di guanti. Adesso vediamo le parole scritte in stampato maiuscolo. Quindi GA di gallo, GO di gomito, GO di guanti. E questo è lo schema che ci insegna a scrivere nel carattere stampato maiuscolo, nel carattere stampato minuscolo e nel carattere corsivo, dove tutte le letterine camminano insieme e si danno la manina. Allora, non dimentichiamo che il suono duro della G, insieme alle vocali A, O, U, si leggerà GA, GO, GU. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Mando un caro saluto a tutti e a voi bambine e bambini, tanti bacini.